Otto condanni e cinque assoluzioni. Questo è il bilancio del processo scaturito all'inchiesta sulle Olus Fasulle che nell'aprile dei tre anni fa portò all'esecuzione di alcuni provvedimenti. L'operazione eseguita esattamente il 9 aprile del 2013 smascherò quella che secondo le ipotesi dell'accusa sarebbe stata una vera e propria organizzazione dedita alle truffe. Secondo quella che fu allora la ricostruzione degli inquirenti, due Olus di Rende, il Sorriso e il Cuore, organizzavano delle raccolte fondi per devolvere denaro in bereficenza. Le raccolte avvenivano ovunque, spesso in prossimità dei centri commerciali non solo in Calabria ma anche in altre regioni, in Sicilia, nel Lazio, in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. I soldi però, secondo quanto riferito agli investigatori, non andavano in beneficenza ma finivano nelle tasche della presunta organizzazione. Ora, a più di tre anni di distanza, sono arrivate cinque assoluzioni ed otto condanne che vanno dai quattro anni e sei mesi ai due anni e sei mesi, al di là dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.